Musica Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Torniamo nella Big Vanilla E mia cara peri Allora partiamo subito con la reaction Poi in realtà dobbiamo fare tutta un'altra cosa Quest'oggi succede un casino C'è un sacco di gente nel server Quindi preparati Praticamente è presente la villa gigantesca che ha costruito Marci? Sì certo In ogni piano ci sarà ognuno di noi Ok quindi ognuno di noi vivrà in un piano specifico di questa villa gigantesca E ognuno deve scegliere il piano Ma tutti abbiamo votato per andare all'ultimo piano Io voglio l'attico Quindi dato che ci sono troppe persone che vogliono l'attico Dovremo affrontarci nell'arena per decidere chi sta a prendere A botte? Sì a botte Eh ma che bello Finalmente facciamo qualcosa di divertente in questa vanilla Che bello Quindi oggi facciamo a botte con gli altri Ma prima di andare Fede è successa una cosa incredibile Allora ti racconto questa storia E poi tu dovrai fare la reaction in diretta così E vedere se piace Eh ma io davvero non so di cosa stai parlando Stai sempre lo racconti magari Allora praticamente ero lì in giro per il villaggio Ok Stavo parlando con loro per decidere a fare con l'arena cosa non fare Mi giro e trovo un gatto No Ok Hai trovato Nino e Camille? No L'ho acchiappato col guintaglio e l'ho portato fino a qui Io adesso lo porterò da te Stai ferma qua Tu beh Ok E tu farei la reazione Ma mi stai davvero regalando un gatto? E mi dirai se lo dobbiamo tenere o meno Ok Ok Ma tipo che mi giro così? Spera E tu lo porti? Sì Ok vai Posso fare una scommessa prima di iniziare? Ma questa cosa me la devi fare anche nella vita reale prima di tutto Posso fare una cosa prima di iniziare? Ah? Ah ma ma Cos'hai detto? Ok Una scommessa? Sì Qual è? Che non hai mai visto questo gatto su Minecraft e non pensavi esistesse Ok Ok Stai parlando va bene vai Allora Stai arrivando? Un attimo Un attimo Lontano? No no non è lontano Quanto ci vuole? Un attimo ho detto Allora Ok Forza vieni 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 Oddio paura sempre Di questi Ci vuole un pochino eh Eh me ne sono accorta Dai vabbè aspetto L'ho già preso me lo farei il giro lungo Perché ho paura sempre dei magma block Quindi sai Non vorrei che schiaffasse No 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 Stef Allora Ci manca solo il gatto dopo il pipistrello guarda Ok Qualche secondo Vai Dai posso girare No Ma è nuovo Credo Ma è troppo carino Mi ha miagolato Ciao Ma sei troppo bello Sì ma mi ha miagolato per salutarmi È ovvio Credo che sia Uno dei gatti più rari Che può spawnare Perché io non l'avevo mai visto In vita mia Io non l'avevo mai visto Un gatto del genere Lo so Lo so Cosa ne pensi Lo teniamo? Ma certo che lo teniamo E adesso prendiamo un gatto grigio Anche nella vita reale Così è il nostro nuovo gatto Ma che bello Ciao bellissimo Dai finché lo troviamo Nino e Camille Va benissimo Ok Poi lo butti via No lo teniamo Perché poi arriva anche Nella vita reale Capito Quindi fa già amicizia Su Minecraft E si porta avanti Capisci No dove lo stai portando? Lo devo portare alla stalla? No in casa In casa? In casa Stava vivendo nella stalla No 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 Povero Dieci minuti ha fatto nella stalla Ah nella stalla vanno bene Sputacchiotto il bandito E Garibaldi Sputacchiotto il bandito Io posso vedere Sputacchiotto Ciao Saluto a tutti Guarda che sono piaciuti Tantissimo i tuoi vestiti Li hanno approvati tutti Quindi ormai È il tuo look ufficiale Sputacchiotto il bandito Allora Fede se quello Possiamo lasciare qua così Eh esatto Lascialo qui per ora Poi dobbiamo fargli una casetta Ma vado subito a costruire Faccio la casetta per il micetto Sei troppo bellino Che non mi gli diamo? Non lo so Nei commenti Nei commenti Scegliamo il più bello Quello che ci piace di più Non impazzire Puoi fare tre respiri adesso Ma è troppo carino Io non avevo mai visto Una roba del genere Ma come si può essere così carini Senza far nulla Sputacchiotto è decisamente più bello Lo sappiamo tutti Oh mamma mia È troppo carino Tranquillo tranquillo Siamo io Sputacchiotto sei bellissimo Andiamo forza Muoviti No voglio stare col micetto Muoviamoci andiamo Dobbiamo andare a combattere Ti ricordi che volevi fare a botte con tutti Sì è vero Voglio anche fare a botte Quello è vero Nel mentre Fede Ho iniziato anche a fare altri alberi qua Te li faccio vedere Per portarmi un pochino avanti Ah belli Siamo arrivati a quattro Io poi in realtà voglio mettere molte più foglie Insomma Questo progetto è lungo Sì 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 Con calma Però comunque ho studiato la cosa che ci avete suggerito alcuni Nei commenti dell'ultimo video E ci avete detto Ma utilizzate il bomial con il fungo Li fate crescere E poi al massimo li modificate Quindi ho iniziato a farli crescere così E poi li modificheremo C'era il metodo Eh sì certo Ma siamo proprio dei bidoni La nuova versione Io lo sapevo Però vedi che comunque Quello grosso da quattro Fa una scena differente Quindi Hanno ragione secondo me Cioè li fai così E poi li modifichi Molto più veloce Ne puoi mettere anche molti di più Quindi è meglio Fere Andiamo a combattere Andiamo Fere ma loco sei pure vestito per l'occasione È diventato un gladiatore Ma no Ma che tryharder che sei loco Ma è già pronto Maledizione Mamma mia Stanno arrivando tutti poi È un po' strano vestito così Ci sono due creeper Questo è l'ingresso dell'arena No 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 Lasciali stare Steph Perché se esplodono è un disastro No Spreaser Aspetta no Li sta portando fuori Credo Con calma Con calma Calmi Occhio occhio ragazzi Calmi No Occhio L'ho fatta lo esplodere Ok bravi 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 Siamo all'interno dell'arena Allora scudo Arco Prendo da qui Le frecce Invece dove le trovo Eccole qua Perfetto Ovviamente abbiamo tutti lo stesso identico equipaggiamento Ovviamente E dobbiamo sfidare Xiao Kenoya E Lorenz Quindi siamo in cinque totali Sarà una battle royale E la persona che sopravvive E riesce a vincere appunto Si becca al sesto piano Della villa degli youtuber Che ha costruito Marci Lo voglio io Marci ovviamente è al settimo piano Quindi è a super attico Che li buchiamo No lui è la mansarda Che è ancora più bella Dell'attico No 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 La mansarda è ancora meglio Allora Io sono arrabbiatissima Bene devi andare al centro di quello slime Lo so me l'hanno spiegato Aprire la bottola Premere il bottone Aiuto mi hai fatto saltare tu Meno male che ero al centro Ma che paura Utilizza questo letto In modo tale a tornare qua Esatto Ok Guarda lì Guarda gli spettatori No Ma chi li frega Ma che bella sta roba No 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 Le frecce ero però eh Non mi tirate frecce Che cattiveria questa Uff Bene sei pronta? No per niente Ho molta paura Anche io ho molta paura Stanno arrivando tutti Stef Ci siamo quasi Andiamo 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 Ehi Ciao Ehi Siamo pronti Signor Marci faccia un 3, 2, 1 Dobbiamo dare il via Ragazzi Siamo pronti 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 3 Pronti 2 1 Potete scammarvi Ma non inizia nessuno Il mio obiettivo è far fuori Lorenzist Ma perché è proprio con noi Allora step io sono pronta Nel caso che tu mi dia il cambio Eh No C'era la prima Ma stai ricastrato Tutti contro lì Vieni vicino Vieni vicino Ti do la forza Allora ti devo puntare Vai bene Allora con calma Quando stai morendo Dami il cambio Ok Guarda questa cosa Non mi sembra molto legale Eh invece si sono in due Vabbè ma non stiamo combattendo due contro tutti eh Spera sta prendendo sverne a tutti i lati Lo so Non l'ho fatto niente Picchia il bambino Non per buttare la prima prozione Vai 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 Attacca le spalle Nozietta di balisti L'ha presa a ciavo ragazzi Aiuto Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Che però si poteva infatti Pere Cambio Ok Non ci credo No Dai aiuto No Distruggi la Pere No Loco Steph Dammi il cibo Che ho preso il cibo dal tuo cadavere Credo Aia Combatti Abbiamo dato il cambio Prima che morissi No Esatto Pere sei uno contro uno contro uno Ce la faccio No Marti stai lì Lì ca però Vai Pere Con le frecce Attacca Loco No Dalle spalle Lo so sono un infame No per lanciare la pozione Pere avvicinati avvicinati Ti la butto a Pere No dai No Loco non ti posso colpire Gira all'intorno Pere gira all'intorno Pere approfittare Ma è l'attacco Eh ci sta provando Steph Ma la vita passa pure io Eh che devo fare Una frecce del giro Che via Vabbè Ha preso l'anno A prendo l'anno Attenta Aia Che devo fare In seguito Vai all'attacco Non muore più Ma come abbiamo fatto morire tutti subito Allora durano 10 anni Bravissimo Sono morto No Non moriva Che devo dire Loco Loco quanto ti è rimasto Zero Eh vabbè Eravamo lì lì È stata una battaglia bellissima E di diritto A questo punto Direi che il quinto piano Va a Steph e Fere Scusate Siamo d'accordo Ok Ok Perfetto Il quinto piano è per poveri No va bene Steph Dai A meno che Loco Dica no Voglio dire una cosa Io lascio le fornelli Accesi così brucia la casa No io voglio dire una cosa Voglio lasciare il sesto piano a Fere Ma no A Steph no Sulla Fere Ma non c'è bisogno Ma non c'è bisogno raga Non c'è bisogno Eccoci qui Purtroppo non abbiamo vinto Ma ci becchiamo comunque il quinto piano Allora Quello è il settimo piano dove marci Questo è il sesto piano Lo sto indicando Fere in questo momento Certo E quello è il quinto piano Noi nello specifico abbiamo quello alla destra Che è il tredicesimo piano Ok Quindi direi di andare a vedere Tredicesimo appartamento Tredicesimo appartamento Esatto Non piano Non piano Fere è un piano Non appartamento piano No è un appartamento È il quinto piano Il tredicesimo Ma buongiorno Ma che bella villa questa Ma salve il receptionist Che bel nome che ha lei Abbiamo pure il portiere qui Ma di lusso Allora vai andiamo Saliamo 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 Ok Allora questo è il primo piano Primo Ok Perché lì mi sa che c'è il magazzino Secondo piano Ok Bello Terzo piano Guarda che bella visuale Ok quindi qua c'è il quinto Sesto Vedi sì 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 Perfetto Poi Non dovrebbe essere questo Ma quello dopo ancora Esatto sì Vediamo Quattro dicesimo Dicesimo piano Vedi questa è casa nostra Appartamento Non ce la posso fare Mi dispiace Perché lì chiami il piano Non lo stavi campando Aspetta un po' troppo aperto però E vabbè così Mannaggia ci cadiamo di sotto Ma non esagerare Qua dovremmo mettere dei vetri Così abbiamo la bella vista Un po' come qua Guarda che bello È molto bello Siamo belli in alto Sì A voglia Ok non è troppo grande Però possiamo inventarci qualcosa Suggeriteci nei commenti Come secondo me dobbiamo arredarle Cosa dobbiamo fare Perché la casa ovviamente noi l'abbiamo Però questa è la villa degli youtuber Ognuno ha la propria stanzina La propria camera E certo Come punto di ritrovo poi Bisogna arredarla in qualche modo Quindi non lo so Vediamo Ma dobbiamo fare super personale Suggerimento nei commenti E mi è venuta anche in mente Una idea Adesso la propongo così a te E poi la proporrò nel gruppo a tutti Facciamo la sfida A chi arreda meglio la propria stanza Eh sì Sì Con le votazioni Bello Con le votazioni del pubblico Sì Facciamo un tanto di sondaggio Decideranno chi ha arredato meglio Bello Sì sì Bella idea E si dice un premio Ovvero si sfratta Marce dall'ultimo piano Esatto E mi prendo la manzarda Se vinco Se noi saliamo da qua Andiamo a spiarlo Dovremmo mettere non oblocchi Però sì possiamo fare delle scalette Andiamo tutto su Esatto Ok ok Questa è la cosa E invadiamo casa Comunque mia cara Fere Adesso dobbiamo tornare al villaggio Perché la gente Sta iniziando a utilizzare La bacca che ho creato Non te ne ho neanche parlato Adesso ti faccio vedere Ah e fatti Sì 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 Perché qua secondo te Dato che ci ha restituito Sputacchiotto Io ne ero il big ladro Finché non lo catturo Io lo cercherò Fere Lui secondo me C'è stato Sputacchiotto Perché ci stiamo avvicinando Ok Infatti io continuo a pensare Che sia Mark Potrebbe E lo voglio stanare Perché effettivamente Facci caso Nel momento in cui abbiamo avuto Sospetti su Mark È tornato Sputacchiotto Brava Hai capito Hai capito Quindi ora ti faccio vedere La baccheca che ho creato Che ci permette di fare Big detective Muoviamoci Forza 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 Brigati Conto se lenta Correre Porca miseria Spacca la baccia Sei proprio lei Non ci provare Spacca la baccia Guarda che facciamo Il due all'uno contro uno Guarda Praticamente tu entri Nel nostro mercato E c'è la baccheca Per segnalare i furti Sputacchiotto è sparito 15 giorni fa E lo possiamo togliere È tornato Perché è tornato Poi è scomparso Il cane di Marco Ok Fai un ragionamento È diventato sospettato Ed è scomparso il suo cane Ruggero sparito Ieri sera vi troverò Ok Però aspetta Steph Potrebbe essere un inganno Lo so Cioè nel senso Le persone sospettano di te Tu nascondi il tuo cane È quello che appena detto Brava Perché è appunto Riporti Sputacchiotto Brava Perché così Adesso sospetta più di te Rimane molto sospetto Marco Esatto Assolutamente Ruggero è sparito Ed è sparito anche Marcello Che è il cavallo di Buddy Ok Quindi sono spariti Veramente tanti animali Ma è un ladro di animali Che è sparito Anche il papagallo di Kendall Ma non l'ha segnalato qua Perché l'ho letto Nel gruppo Whatsapp Ok Quindi stanno sparendo Tantissimi animali Io continuo a pensare Che il big ladro Non è uno Ma sono i big ladri Anche secondo me È più di uno Però segniamo Che Sputacchiotto Sputacchiotto È tornato Bandito Sputacchiotto Sta bene Ok Segniamo così Perfetto Perfetto Fere non so Secondo te cosa dobbiamo fare Per scoprire Io ho un'idea Però è abbastanza complicata Ovvero Voglio creare una trappola Però adesso che io lo dico Lui lo sentirà E quindi deve essere imprevedibile È quello È sempre quello il problema Però dobbiamo fare qualcosa Che lo attira In un punto specifico Lo intrappoliamo Perché siamo troppi In questo server Non possiamo trovare Così a caso il colpevole No 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 È molto facile O troviamo il suo rifugio Non so come Allora è molto facile Nascondere eventuali prove Perché siamo tanti In colparci anche a Vicenta Perché appunto siamo tanti Quindi non lo so Stef Bisogna escogitare un bel piano Dateci dei consigli ragazzi Abbiamo bisogno Di trovare il big ladro Ma non lo so Non abbiamo ancora Abbastanza indizi Ed è veramente Difficile arrivare Solo sospetti Tanti sospetti Su di lui Su di lui Comunque Ci fermiamo così Nel prossimo episodio Se ci date qualche Suggerimento Su come potremo Arredare il nostro Bellissimo appartamento Iniziamo a farlo Sotto con sempre Come altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 ciao